Chiuse dal giorno del terremoto, si sono aperte oggi le porte del Palazzo del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il cantiere affidato con un iter burrascoso, corredato di ricorsi tra le ditte partecipanti, è stato appaltato per 8.833.000 euro. Il cantiere dovrà essere riconsegnato in 495 giorni lavorativi. L'intervento di ristrutturazione e qualificazione riguarderà una superficie di circa 6.000 metri quadri. In particolare sono state poste in evidenza le soluzioni adottate dalla ditta appaltatrice, che ricordiamo è il raggruppamento temporaneo di impresa, composto tra Rose Edilizia SRL, Ricci Guido SRL ed Elettroidraulica Silvi e SNC. Le scelte sono quattro. Un drastico abbassamento dell'accelerazione alla base dell'edificio tramite un isolamento. La riqualificazione delle parti storiche e monumentali. Nuove soluzioni per il miglioramento energetico e sostenibilità ambientale dell'edificio. La reintegrazione del complesso regionale con lo spazio urbano e il centro storico dell'Aquila. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pancrazio, ha comunicato che le sedute dell'Assemblea continueranno a svolgersi nell'attuale sala consigliare. Ma è anche in corso un dialogo con l'amministrazione comunale per valutare l'opportunità di chiudere al traffico l'attuale via d'accesso al Consiglio regionale, via Michele Iacobucci, consentendo al Palazzo dell'Istituzione regionale di riconnettersi con la città e con la villa comunale, abbattendo così le attuali recinzioni. E l'emiciclo potrà tornare ad essere la facciata nobile della piazza del monumento.